salve gente benvenuti in questo nuovo video e siamo tornati ovviamente nel mondo dello stalker per proseguire la nostra avventura e sì le cose sono sempre più complesse anche qui infatti lo stalker ci sta veramente perseguitando ci sta creando numerosi problemi ma non è il pericolo più grande infatti se avete seguito gli ultimi episodi abbiamo incontrato strani esseri molto pericolosi in particolare uno molto gigante che non siamo riusciti a capire cosa sia esattamente ma una cosa è certa è molto pericoloso e temo che se non ci attrezziamo adeguatamente magari anche con qualche totem e altre enderperl mi sa che la nostra sopravvivenza sarà presto finita quindi in questo episodio dovremo veramente darsi da fare e iniziare a magari anche alzare la difesa del villaggio non lo so oppure potremo esplorare un po quello che ci circonda cercare un'area più sicura e cercare soprattutto un materiale potremo comunque fare scambi con un villager e abbiamo comunque messo in sicurezza e ottenere la mappa per la magione e andare la ovviamente ma non sarà facile vediamo entrare nel mondo perché abbiamo molto da fare vi ricordo solamente il like non dimenticato per questa serie e meglio se andiamo avanti ebbene sì eccoci qua dove ci avevamo lasciati esattamente l'ultima volta attenzione perché siamo appena entrato nel mondo e la situazione sembra essere tranquilla ma se vi ricordate proprio qui dietro c'era qualcuno che ci stava osservando in lontananza tipo là dietro ecco adesso non mi sembra che ci sia ancora però insomma attenzione perché potrebbe tornare ovviamente in questo momento non vedo nemmeno molti mostri a parte qualcosa là in fondo ma ci stassimo appena entrati nel mondo quindi tutto in genere dovrebbe essere più tranquillo no almeno spero non perdiamo tempo diamo un'occhiata qui nel villaggio e diamo una mossa cerchiamo anche di fare qualche scambio con il villager che è diventato cartografo perché l'obiettivo serve proprio ottenere una mappa della magione poi se la situazione lo permette penso che per la prima volta proveremo ad esplorare un po quello che ci circonda qui quindi insomma abbiamo veramente una valanga di cose da fare in questo mondo vediamoci giusto quello che ci serve magari un po di carbone un po di materiale anche per sopravvivere cose abbastanza di base anche lo scudo anche se mi avete detto che probabilmente lo scudo non fa molto contro contro lo stalker perché insomma vabbè vediamo eh cercheremo un attimo di capire meglio come combatte la sua strategia perché effettivamente lo scudo ci avevamo ma non l'abbiamo utilizzato o non siamo riusciti a utilizzarlo sentite non lo so chiudiamo qui la porta e potremo anche se ce l'abbiamo o una bussola o una mappa di questo luogo perché se ci allontaneremo ecco magari dobbiamo scappare da qualcosa e perdiamo un po la direzione di ritorno sapete potremmo perdersi e non è per nulla bello questo eh per ora comunque tutto tranquillo sembra ma ecco non è detto perché quell'essere gigante è spesso invisibile no ok sento qualcosa a nuotare qua però vabbè sarà qualche qualche pesce no nulla di grave eh vediamo di andare dai eh rigeneriamo anche già che ci siamo e vediamo un po di prepararsi anche per gli scambi vediamoci subito quindi la carta eh che c'è qua questa qua esattamente sistemiamo magari un po la farma anzi la amplierei un pochino prima di iniziare a fare gli scambi perché se no ci metteremo tantissimo a ottenere la mappa della magione quindi prima ampliamo la farm più che possiamo ovviamente e poi ecco vedremo un po che fare facciamo così ne abbiamo 18 quindi ecco già moltiplicando la farm in questo modo eh voglio dire non dovremmo mettersi molto a ottenere gli scambi interessanti no almeno spero mi dispiacerebbe mettere questo queste cose qua perché coprono un po la visuale ovviamente dall'area della base però sinceramente non saprei dove altro metterle quindi per il momento le metteremo qui poi valuteremo se creare un'area magari un po nascosta dedicata alla farm ovviamente e vediamo anche di illuminare per bene perché non so se crescono al buio questa eh e qui il giorno è da un po che non lo vediamo quindi ecco converrebbe assolutamente illuminare mi sembra più che ovvio ok occhiate nel villaggio e a questo punto se non possiamo fare scambi mi sa che non verrebbe anticipare l'esplorazione eh sì credo proprio di sì ok guardate da tra gli alberi credo si sta avvicinando si si sta avvicinando di qua eh ci ha visti maledizione maledizione questo è grave eh forse ci ha persi di vista credo di sì probabilmente ci ha persi di vista ovviamente perché siamo nascosti qui dentro ok andiamo nel piano di sopra per avere una visuale migliore uh attenzione che non ci sia però lo stalk che non ho nemmeno guardato il piano di sopra non ho guardato il piano di sopra se c'è qualcuno qua dovremmo mettere una finestra comunque non sento rumori strani quindi esatto non c'è e quell'essere dove è finito? un po' che è andato nella grotta? potrebbe essere? eh non è che quell'essere arriva dalle grotte? strano però è molto grande di solito gli esseri molto grandi non dovrebbero arrivare dalle grotte uh sta piovendo anche ora eh maledizione ok situazione non molto bella eh come avete chiaramente capito il meteo qui appena cambiato però quell'essere non mi sembra di vederlo forse se n'è andato dobbiamo stare molto attenti controlliamo un attimo da qui sopra per avere il visuale migliore in assoluto e direi che se non c'è ce ne andremo no? però immaginatevi di andare nella foresta esplorare comunque l'aria e trovarsi quello a pochi metri da noi eh non è il massimo eh non è affatto il massimo abbiamo alternative? non credo però facciamoci coraggio e proviamo a esplorare un pochino l'aria no? oddio brutto presentimento però eh assolutamente chissà che cavolo è quell'essere però cosa vuole esattamente un enderper se ne abbiamo ma una sola se abbiamo effetti negativi ci dobbiamo girare e andare via eh ok non è qua no probabilmente si è allontanato si si è allontanato sicuro ok eh situazione qua veramente pessima però tutto sembra essere un pochino più tranquillo ora ok e che dite tocca esplorare? come verrebbe esplorare un po' l'aria dove andiamo però? e non saprei proprio dove andare come verrebbe andare comunque in una direzione ben precisa tipo se dobbiamo andare di là andiamo proprio in linea retta così anche per tornare indietro potremmo farlo vediamo comunque ci sono delle montagne sarebbe un po' difficile escalarle da questa parte invece non lo so perché da questa parte spesso arriva lo stalker quindi oddio magari stavamo la sua base eh potrebbe anche essere cavolo è molto pericoloso però non possiamo restare qui fermi ovviamente ok qua ci sono anche un po' di mostri sembra una mega grotta qua cavolo pochi mostri in realtà ok qua c'è uno scherzo dobbiamo di farlo fuori eh ok ripeto attenzione creeper vorrei farlo fuori in realtà non farlo esplodere per la polvere da sparo vabbè molti ci sono qua in realtà anche parecchi vabbè siamo comunque nell'area oscura della foresta ci sta che ci siano dei mostri no direi che è normale quindi se abbiamo fatto un bel lavoro nel villaggio perché è tutto molto illuminato e quindi molto bene no ok qua c'è dell'acqua anche potremmo farsi una barchetta eh quasi avrebbe senso eh là c'è qualcosa di luminoso eh ma penso sia un pozzo di lava ok sì qua si cambia comunque bioma eh là c'è una foresta normale non taiga potremmo provare ad andare di qua la barchetta non penso abbia senso perché l'area è abbastanza piccola qui mostri ce ne sono ma nemmeno troppi come potete vedere eh eh insomma ma non c'è niente guardate qua che situazione è strana eh ok ok qua un po' di mostri ci sono invece sono tutti un po' raggruppati qua eh se riusciamo a far fuori i creeper senza farli scoppiare sarebbe ottimo eh eh ma è un po' ecco vabbè forse meglio così eh uh c'è un villaggio là sì quello è un villaggio ok direi che possiamo andare là eh spero che sia la cosa più sensata sì sì c'è proprio un villaggio anche molto grande cavolo vicino al nostro villaggio c'è un altro villaggio ok beh direi molto bene direi che possiamo andarci anche eh per ora comunque tutto tranquillo di fuori del nostro villaggio che veniva spesso preso di mira la situazione esterna sembra tranquilla qua almeno per ora eh perché forse questi esseri non si sono accorti del nostro piccolo viaggio potrebbe essere più di mostri qua anche eh la cosa un po' mi tranquillizza oh mio dio attenzione oh mio dio che cavolo è quello è diverso dagli altri no 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 che cavolo è quello non so ci sta seguendo sì ci sta seguendo maledizione ci sta seguendo corri 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 ok sembra essere andato non ci sta più seguendo c'era un essere strano che quello non l'avevo visto è vero però andare in queste aree potrebbe esporci ovviamente ad altri pericoli ha senso come cosa no cerchiamo di illuminare torse ne possiamo fare tante credo che qui trovare carbone trovare torse in generale non sia un problema illuminiamo perché questo villaggio potrebbe diventare una nostra seconda casa eh quindi direi che ha molto senso no quell'essere però non mi è piaciuto proprio per niente era diverso da quello che abbiamo incontrato l'ultima volta era totalmente diverso continuiamo a illuminare in teoria possiamo farci anche altre torse perché ci siamo portati di carbone quindi facciamolo ovviamente ok quello è quello solito ed è anche un problema questo ok ignoriamolo inutile andare vicini perché ci sarà un'interferenza se ci avviciniamo in genere no quindi converrebbe illuminare quest'area e stare alla larga ci sono anche delle grotte sì direi che questo villaggio sarà la nostra nuova casa eh se siete d'accordo direi che potrebbe proprio essere così attenzione qua perché c'è un po' di mostri eh sto guardando anche attorno c'è una luce strana di là per ora stalker nemmeno l'ombra comunque molto bene diseneriamo e stiamo ok quello di prima è diverso probabilmente quell'entità si aggirava già in questo villaggio sta guardando di qua sta guardando di qua attenzione sul serio qua c'è anche una mega grotta cavolo questo villaggio è troppo grande comunque fortificarlo sarebbe sarebbe molto dispendioso quindi non credo abbia senso andiamo nell'area centrale del villaggio e controlliamo un attimo l'area no perché siamo comunque qui per cercare materiale no non dimentichiamolo maledizione 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 cavolo ma sono due no sono in tanti sono in tanti abbiamo spiegato nostra ultima enderpearl forse andare via dal villaggio iniziale non è stata una buonissima idea direi proprio di no entriamo entriamo in una casa controlliamo un attimo illuminiamo un po' l'area in questo villaggio dovrebbero esserci molte aree beh molte non lo so però aree segrete dovrebbero essercene quindi entriamo in questa casa continuiamo un attimo ok qua c'è un villager salviamoci il punto di spawn non si può nemmeno dormire ma tipo qua che è tutto chiuso la porta è tutta chiusa che cavolo non ho ben capito si mi sa che qua c'è qualcosa che non va ma va bene ok finché siamo qui dentro stiamo attenti perché comunque ci sono diverse aree dove si esce qua cerchiamo di prendersi più materiale lì ci sarebbe anche tanto carbone che ecco per illuminare sarebbe una cosa saggia ma cavolo questa casa qua non capisco come cavolo sia costruita vabbè ok qua il piano di sopra esiste invece però mi sa che abbiamo trovato cioè siamo entrati nell'unica casa che non ha non ha chest non ha nulla di utile qui ok molto bene cambiamo casa facendo attenzione però ok in quale casa proviamo ad andare secondo me potremmo andare in questa e poi controllare quelle accanto tipo questa esatto andiamo su questa qui guarda con un salto qua ci dovremmo arrivare qui c'è anche una buona visuale ok ce n'è uno in fondo si ci sono delle entità oscure qui che sembrano anche molto pericolose ok questi ci saranno per gli scambi eh sì perché l'obiettivo sarebbe comunque la mappa del cartografo ma cavolo non sarebbe male qui eh per muoversi velocemente quindi riuscire anche a sfuggire potrebbe essere una soluzione interessante no ok entriamo di qua qua si è generata un po' male la casa però ok poco materiale però eh decisamente poco eh là ce ne sono due attenzione perché c'è uno anche vicino che dovremmo controllare anche questi due qui è altamente probabile che ci sia qualcosa se non ricordo male in un altro mondo lì c'era una cesta segreta forse converrebbe controllare ok entriamo eh sono là cosa positiva in quest'area per ora non abbiamo incontrato quelli super mega pericolosi giganti no comunque c'è una cesta da sopra adesso andiamo subito a vedere che cavolo c'è però abbiamo trovato un'entità simile che abbiamo incontrato anche nel villaggio della taiga no quindi insomma oh mio dio ok mi ricordavo bene abbiamo un bel po' di esperienza mele per rigenerare una anche di quelle forti e finalmente abbiamo anche dei totem purtroppo non abbiamo enderpearl questo è un problema perché noi potremmo resistere tranquillamente con i totem no ma non riusciremo a scappare con i totem e c'è un po' di differenza no potrebbe essere un po' un problema questo però non lamentiamoci non lamentiamoci affatto controlliamo anche l'altra perché c'è ci sono due strutture di questo tipo quindi non verrebbe controllare potremmo prendersi anche il grano qui è stato il golem lì attenzione ok non piovi più riduco che quegli esseri quindi si sono allontanati si è vero quando piove le cose peggiorano quando non piove le cose sembrano invece migliorare ok perfetto altra cesta veramente piena di cose vediamoci tutto ovviamente possiamo anche farsi una spada in diamante e anche un piccone le cose che faremo immediatamente mi sa qui scendiamo e dire di andare nella casa più alta e una volta che saremo là organizzeremo un attimo l'inventario facendo attenzione no no è vero guardate non piove più è e insomma situazione leggermente migliore ma nemmeno troppo dovrebbe fare scavare da di mi sa perché non credo ci sia un accesso alla casa più alta a meno che ma qua si esce mi sa si chiudiamo entro io da qui sopra se noi scaviamo finiamo di sopra no potrebbe aver senso eh si perché dobbiamo studiarsi un'area qui quello quel golem mi piacerebbe ripararlo ma di farlo non abbiamo è quello sparito un po' di scheletri però quelle entità giganti forti non non ne vedo eh quello è un enderman eh eh ma da qua non ci vedrà mai vabbè cerchiamo di andar di sopra magari scavando da qui facciamo tipo delle porte delle scale anzi sì non è male questa cosa non è affatto male facciamo così facciamo così e vediamo ci facciamo un po' di scale penso che la facciamo le nove dovrebbero bastare e mettiamole qua ok vediamo un attimo dovremmo spuntare di sopra no esatto sotto la casa siamo più o meno dai dai e ci siamo dai ok questa è l'area più alta direi che qui se illuminiamo bene dovremmo essere al sicuro perché siamo molto in alto e siamo anche abbastanza nascosti quindi tutto sommato molto bene e questa casa che è ancora più alta sperate un attimo quella casa lì ah è vero di sopra non ci siamo stati forse sì vabbè anche quella non sarebbe male però questa sopra la collina mi sembra ancora più sicura e vediamo se c'è qualche qualche cosa di utile qua perché avevo visto che c'era una chest salviamoci il punto di spawn qui direi questo lo voglio blocco questo me lo prendo anche potremmo riparare i golem questi qui eh sì perché i golem potrebbero essere molto d'aiuto quello ok attenzione se dove è stato secondo me non so voi ma c'erano pure lì eh cioè sono due questi qua sono legati a quell'essere gigante quelli invece no perché li abbiamo incontrati proprio in quest'area quindi probabilmente erano già qui prima di noi ok là c'è neppure un altro attenzione c'è solo tre di quelli che ci osservano non vorrei che potesse arrivare anche uno di quelli giganti vabbè qui sopra dovremmo essere abbastanza sicuro però priorità direi che qui converrebbe creare un'area sicura eh meglio avevo visto una una cesta qua sopra ho sbaglio non mi ricordo dove ma mi sembra di aver visto una cesta e qua c'è un'area anche con un bel po' di minerale eh di minerali vari quindi non male eh situazione qui non non ottimale però ok abbiamo del materiale molto utile adesso eh molto bene se riusciamo a recuperare altro materiale magari anche della carta semplice così potremmo iniziare a fare gli scambi per ottenere magari la mappa della magione la mappa della magione a questo punto se riusciamo a trovare i Wendermi ci sarebbe lì se riusciamo a trovare la magione converrebbe creare una base lì una base super sicura effettivamente visto che la magione è molto chiusa avrebbe senso no? e poi comunque qualche altro totem in più non farebbe di certo male no? uuuuuh stalker ci ha trovati eh? ci ha trovati cavolo non so se riesce a salire di qua non so se riesce a salire beh se trova la strada che abbiamo fatto anche noi potrebbe riuscirsi eh? se trova il percorso ci riesce a salire eh? oh mio dio è qui sotto eh? eh non lo so se riesce a trovare il percorso potrebbe trovarlo però potrebbe anche trovarlo ok qui direi di togliere queste cose inutili io non lo so se riesce a trovarlo eh? mmm non mi piace eh? col golem li hai distrutto dovremmo ripararlo ah è qua sotto no non sta come salire questo però è un problema perché adesso sta dove siamo forse collabora sembra che lo stalker sia come il capo di questi esseri anche se non è il più forte è quello che che comanda può essere oddio l'ac che cosa è successo? è scoppiato qualcosa? è andermelo in fondo ma non ha nemmeno senso attirarlo no no comunque lo stalker sembra non riuscire a salire qua assolutamente no ok facciamo una cosa scatoletta già ce l'abbiamo facciamoci subito una spada e ci facciamo anche un piccone direi e avanzeremo anche qualche diamante quindi molto bene direi che possiamo scartare questo che è ormai anche rotto anche perché in diamante durerà chiaramente di più un po' di spazzatura buttiamola via tipo questo non ci serve via 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 anche questi ok molto bene e direi anche che possiamo concludere qua questo episodio attenzione che nel prossimo dobbiamo analizzare un pochino l'aria lo stalker se non si è andato dovremo mandarlo via ovviamente e attenzione ecco complessivamente dovremo stare molto attenti ci vediamo quindi nel prossimo episodio sperando ovviamente di riuscire ad andare avanti senza perdere tutti gli oggetti che abbiamo preso e quelli mi sa che sono molto pericolosi ci vediamo al prossimo episodio quindi alla prossima ciao